buonasera a tutti grazie per essere intervenuti questo lunedì pomeriggio alla presentazione la prima presentazione a torino del libro di andrea giuliacci nella peggiore delle ipotesi edito da rizzoli noi abbiamo finito ora le presentazioni ufficiali tra i relatori e il nostro il nostro autore con grandissimo piacere avere quale autore andrea giuliacci grazie per essere intervenuto personalmente alla presentazione sul libro e con altrettanto piacere presento l'ingegner curcio il capo del dipartimento della protezione civile grazie davvero per onorarci della sua presenza e con altrettanto piacere che indico a voi il nostro vice rettore dico nostro perché io lavoro all'università di torino quindi è un piacere per me averlo con con noi alla presentazione il nostro vice rettore gidio danzero professore di unito nonché vice rettore vicario per la sostenibilità e per la cooperazione allo sviluppo direi un tema assolutamente importante e preponderante per la nostra quotidianità e con noi anche il professor claudio cassardo insegna anche lui nell'unica all'università di torino ed è un meteo climatologo ecco questa parola che oramai è entrata nelle nostre nelle nostre conversazioni quotidiane abbiamo voluto presentare il libro di andrea giuliacci non solo perché è un noto volto televisivo e molti di voi l'avrete riconosciuto ma perché tratta di un tema importante in chiave assolutamente scientifica e questo lo ribadisce più volte all'interno del libro ma anche con un tratto divulgativo e prima di iniziare vi porto i saluti del presidente della regione dell'assessore marrone che dovevano essere oggi qua ma purtroppo per un'emergenza anche loro non hanno potuto essere presenti nonché del rettore dell'università di torino che ha detto di salutare il con grande con grande piacere il capo del dipartimento della protezione civile ma anche lui non ne è potuto intervenire e grazie alle autorità presenti e a chi è voluto venire ad ascoltare questa presentazione io partirei dal nostro ospite istituzionale che è l'ingegner Curcio io ho avuto piacere di incontrarlo ad una presentazione a Roma a Castel Sant'Angelo la location era altrettanto bella e lì abbiamo parlato di eventi calamitosi di protezione delle infrastrutture critiche e dell'importanza che ha il sistema di protezione civile all'interno proprio del nostro della nostra governance del nostro governo ma anche del collocamento di questa funzione all'interno del e soprattutto dislocata sul territorio perché sappiamo che la protezione civile opera non solo in situazioni emergenziali ecco quello che forse noi cittadini vediamo di più ma opera anche a livello di prevenzione mitigazione dei rischi ma lo vedremo anche dopo degli effetti ecco ingegner Curcio lei ha letto il libro ha potuto osservarlo come opera la protezione civile lei una volta proprio in occasione di quella di quella presentazione ricordo che parlò di protezione civile come materia viva ecco questo mi colpì perché effettivamente noi quando parliamo di protezione civile immaginiamo i volontari che si muovono le istituzioni che operano direttamente sul territorio ma perché una materia viva e come viene concepita dai cittadini oltre che dalle istituzioni sì grazie intanto buonasera a tutti grazie per l'invito a torino grazie in questa splendida location grazie alla moderatrice germana zufanti per avermi introdotto grazie ai colleghi che saranno qui a presentare a ragionare insieme un momento di riflessione no grazie ad andrea giuliacci perché ha espresso se me lo consentite io ho letto il libro un grande interesse non è mai facile parlare di questi temi in maniera scientifica ma divulgativa c'è sempre un qualche cosa che rimane in mezzo che ci fa o sottostimare o sovrastimare come dire le parole che vengono detto l'ho trovato veramente molto molto interessate anche con dei risvolti che non ho trovato in altre situazioni quando parla del cittadino quando parla dei comportamenti quando parla dell'umore quando parla sono veramente come dire aspetti che in qualche modo effettivamente riconducono perché sono fatti su base scientifica ma su quale non c'è abbastanza come dire comunicazione detto questo provo a dare una risposta alla domanda ma io mi sforzo oramai è qualche anno che mi occupo del sistema di protezione civile tra una cosa un'altra diversi anni e devo dire che quello che vorrei si comprendesse che quando fu pensato questo sistema fu pensato da un visionario perché i grandi progetti hanno sempre una grande mente dietro e soprattutto un visionario che poi l'ha resa pratica parlo di giuseppe zamberletti quindi una figura non solo di grande spessore per il sistema di protezione civile ma che conosceva profondamente la società italiana cioè noi ricordiamo giuseppe zamberletti perché lui è stato come dire il capo il primo capo il ministro giuseppe zamberletti è stato un profondo conoscitore della nostra società è stato una persona che ha avuto incarichi politici per anni sapeva cogliere le sfumature del paese per questo ha immaginato un sistema che per esempio fosse di coordinamento e non fosse di sostituzione per questo ha immaginato un sistema che fosse di come dire inclusione e non di sovrapposizione perché sapeva e conosceva che il paese è il paese dei campanili è il paese dei territori il paese come dire dei cortili è il paese come dire delle competenze e allora lui immaginò questo questa idea di un sistema di protezione civile che fosse centrale ma territoriale che fosse inclusivo ma che fosse come dire in qualche modo anche gerarchico nel momento giusto quindi diciamo un sistema che in qualche modo andassi a sposare quello che è l'idea della società nel momento in cui opera ecco perché io in maniera molto più modesta evidentemente punto l'attenzione sul tema del fatto che il servizio di protezione civile rappresenta un po il momento sociale economico politico nel senso migliore del termine del momento in cui viviamo perché io lo vedo negli anni in cui abbiamo fatto il sistema di protezione civile nel momento in cui abbiamo avuto una società un contesto un po più disinvolto chiamiamolo così legittimamente disinvolto abbiamo avuto una protezione civile molto disinvolta facevamo cose abbiamo fatto attività abbiamo fatto azioni abbiamo fatto grandi eventi beh quando la società per una serie di motivi si è andata un po a restringere abbiamo iniziato a ragionare un po sul contenimento sulle azioni allora la protezione civile si è in qualche modo come dire un po ristretta ma questo perché perché noi siamo costituiti da elementi che rappresentano le istituzioni e la società non siamo una roba diversa il nostro sistema è un sistema che si basa sulle forze armate sulle forze di polizia sui prefetti sulle regioni sui comuni sul sentiment del cittadino e allora è evidente che noi siamo materia viva cioè riusciamo e dobbiamo provare a intercettare quelle che sono le esigenze del cittadino di oggi ma pensando a quelle che saranno le esigenze del domani guardate se c'è un tema che a me spaventa ho l'opportunità ovviamente anche di avere relazioni in consensi internazionali dove abbiamo anche come dire siamo ben considerati quando arrivano diciamo l'Italia la migliore protezione civile del mondo io mi spavento quando dicono questa cosa ho paura perché c'è un'aspettativa molto elevata mentre invece io non penso a come noi riusciamo a rispondere oggi ma se noi riusciremo a capire le esigenze del cittadino del domani per questo è molto importante come dire lavorare in quello che sarà il prospetto del domani perché se no noi pensiamo di dare un prodotto al nostro cittadino che se ne immagina un altro per essere molto come dire concreto quindi è materia viva e perché è materia costituita da ciò che fonda il sistema nazionale con le sue organizzazioni centrali con le sue articolazioni politiche con le sue articolazioni come dire territoriali e quindi quando cambiano cambiamo anche noi se il cittadino è più propenso al tema di sicurezza noi riusciamo a seguirlo se il cittadino è meno propenso sul tema di sicurezza noi facciamo fatica per questo credo che noi si debba molto lavorare quando una delle cose che io un po' contesto ma in senso ovviamente molto istituzionale noi abbiamo un po' questa tendenza di prendercela con la politica ma i politici la politica siamo noi queste persone che svolgono la politica sono i nostri rappresentanti e allora questo tema di scaricare sulla rappresentanza a me mi convince poco perché quando il cittadino cioè noi società chiediamo sicurezza la politica cerca la sicurezza perché ti deve venire incontro quando noi non chiediamo sicurezza la politica come dire si appoggia su altre agende e allora noi dobbiamo lavorare con una sorta di morsa noi dobbiamo come dire sensibilizzare ripeto io quando parlo della politica parlo delle politiche delle polisi non parlo dei governi questo lo dico per chiarezza per evitare fraintendimenti allora noi dobbiamo lavorare da una parte per sensibilizzare le polisi nazionali su alcuni meccanismi e dell'altro dobbiamo far sì che il cittadino richieda la sicurezza perché se queste due cose convergono allora il nostro lavoro diventa non dico più semplice ma insomma più gestibile Grazie Ingegner Curcio Materia Viva anche perché in realtà la protezione civile il sistema di protezione civile si occupa di lavorare su quei rischi elencati da giurista ve lo sottolineo non solo all'interno del decreto legislativo del 2018 il numero uno ma poi Materia Viva perché se si verificano altre emergenze la protezione civile lavora su altro pensiamo al Covid, pensiamo alle guerre ultimamente si parla della guerra in Ucraina ma ci sono state altre emergenze abbiamo parlato poco fa di Derna quali sono i rischi e gli effetti sui quali opera la protezione civile? Ha centrato un elemento che è sostanziale perché ovviamente poi ognuno ha una rappresentazione della protezione civile che in alcuni casi no cioè mentre delle strutture operative classiche più o meno sappiamo dice dalla polizia uno si attende quello dei vigili del fuoco uno si attende quello dalla polizia civile c'è un range di azione incredibile io parlo sempre delle famose tre protezioni civili cioè quelle che ognuno di noi vive in funzione del ruolo che ha la protezione civile che faccio io come capo del dipartimento di protezione civile non è quella che fa il sindaco, non è quella che fa il presidente della regione non è quella che fa il cittadino perché ognuno di noi ha un ruolo ed è una poi c'è la protezione civile che ognuno di noi vorrebbe se noi abbiamo fatto anche questo esperimento abbiamo chiesto a persone ma tu che cosa dovrebbe fare la protezione civile? e qua si scatena la fantasia più incredibile dai rifiuti alla pulizia delle strade alla qualsiasi perché diventa un po' una sorta di se può fare tutto in qualche modo e io invece punto sulla protezione civile che è che è quella delle norme perché noi siamo un dipartimento della presidenza del consiglio dei ministri siamo un'istituzione non è che io mi alzo la mattina e decido di occuparmi di una cosa rispetto a un'altra o faccio le ordinanze come facevano una volta i vicere io ho degli ambiti ben precisi nel quale posso muovermi che sono fortunatamente e correttamente inseriti in quella che la giurisprudenza ci consente di fare ma questa giurisprudenza è quella famosa materia viva perché a valle degli eventi chiamiamo del 2010, del 2012 quando appunto quella protezione civile è un po' più disinvolta è stata improvvisamente, legittimamente disinvolta intendo è stata come dire molto ristretta la norma si è chiusa attraverso una dizione cerco di semplificare io non ho la capacità di Andrea Giuliacci di essere così immediato però insomma cerco di semplificare, mi perdonerete nel fatto che in qualche modo dice no la protezione civile si occupa di questi rischi qui e quindi ha elencato sostanzialmente i rischi per il quale il sistema può intervenire e il sistema è autorizzato a mettere in piedi una serie di attività che appunto sono gestite dal capodipartimento piuttosto che da altri detto questo, fissato questo sistema esce fuori il Covid che non ci stava in quel sistema e allora a un certo punto hai creato una norma o perlomeno ci stava come si dice giuridicamente tirandolo un pochettino poi addirittura l'Ucraina quindi un flusso di popolo che scappa da una guerra se io leggo come dire l'articolo 16 che sta scusatemi non voglio fare il burocratio ma là dentro non ci troviamo perché sostanzialmente non è un rischio naturale quelli c'è una guerra, stanno scappando è una sorta di migrazione non so come vogliamo chiamarla e allora che cos'è che ci stiamo rendendo conto noi lo sapevamo anche prima ma sono processi non sempre facilissimi che in realtà il sistema di protezione civile dal mio punto di vista e poi ovviamente la discussione è aperta non è che interviene sui rischi di protezione civile ma interviene sugli effetti di protezione civile cioè quando un effetto arriva sulla nostra comunità e impatta in maniera trasversale su una comunità come dire complessa come è complessa la nostra eccolo lì che sia per un terremoto sia per un alluvione ma se arrivano le tarantole da Marte tu comunque devi fare delle azioni e quelle azioni sono azioni a favore del cittadino e quindi potrebbero essere inserite nell'ambito del sistema di protezione civile eccolo lì che allora la famosa questione dello strumento vivo noi dobbiamo adeguarlo questo strumento sempre ammesso che si voglia adeguare cioè noi possiamo fare delle cose queste cose le possiamo fare nell'ambito di un range abbastanza chiaro di attività se abbiamo fatto il passaggio successivo e ci stiamo ragionando cioè quando è che io attivo questo strumento non solo se ci sta l'evento 1, 2, 3 o 4 ma quando l'effetto diventa 1, 2, 3 o 4 allora apriamo il sistema ad intervenire su situazioni un po' diverse io per natura sono abbastanza cauto malgrado potrebbe non sembrare e chiaramente immagino questa apertura in maniera molto controllata perché non ritengo che si debba tornare alla stagione che c'è anche stata durante la quale il sistema di protezione civile veniva utilizzato scusate mi ribadisco legittimamente perché le norme quello consentivano di usare i famosi poteri straordinari perché noi riuscivamo a fare le cose in maniera ordinaria perché questo è quello che è accaduto siccome c'erano dei vincoli straordinari nell'attività come dire ordinaria allora arrivava il sistema di protezione civile che si basa su due concetti molto semplici poteri derogatori quindi le norme sono derogate e poi una certa come dire a suo tempo generosità anche nella logica del finanziamento quello strumento era diventato una chiave di accesso per tutte le cose che il paese in ordinario non riusciva a fare ecco quello è sbagliato cioè noi non possiamo immaginare noi dobbiamo fare le cose ordinarie che accadono con gli strumenti ordinari e cambiare gli strumenti ordinari se questi non funzionano i famosi riforme e poi utilizzare gli strumenti straordinari quando l'evento è straordinario allora se noi troviamo questo equilibrio allora troviamo una risposta giusta se no noi facciamo un po' l'attività del pendolo non ne siamo passati da occuparci di cose ordinarie con strumenti straordinari poi a un certo punto siccome la stagione era passata ci siamo trovati addirittura a fare cose straordinarie con gli strumenti ordinari e anche quello non va bene perché se lo strumento se l'evento è straordinario deve avere come dire un potere in più è per essere pratico noi quando ci siamo occupati della gestione emergenziale ero capo dipartimento 2016-2017 per fare proprio un esempio concreto noi non potevamo subappaltare per esempio i lavori in emergenza cioè le famose casette che si facevano non si potevano fare con le norme di subappalto perché in quel momento la sensibilità come dire generale portava il concetto del subappalto a come dire una difficoltà di controllo e non lo abbiamo potuto fare neanche in emergenza oggi si può fare in ordinario allora c'è qualcosa che non torna cioè questo pendolo deve trovare una sua forma di equilibrio ecco questo è il ragionamento che c'è dietro appunto lo strumento la norma e la materia viva allora 1980 si costituì posso rispondere? si costituì il dipartimento faccia domande che riesco a rispondere perché non è che le so tutte non li abbiamo preparate no questa la so però allora 1980 appunto Giuseppe Zamberletti costituì questo dipartimento avendo questa idea di porlo dentro la presidenza del Consiglio dei Ministri proprio perché aveva compreso che c'era bisogno di un organo che fosse posto in un'ottica superiore rispetto ai ministeri la norma la norma che poi ha reso il sistema quello che poi la legge madre chiamiamola così è la legge 225 del 1992 e anche questo perché poi quando si parla lo dice anche Andrea Giuliacci nel libro quando si parla se stava meglio quando si stava peggio si guarda un po' indietro con questa forma un po' romantica qualche volta sì qualche volta no eccetera Giuseppe Zamberletti che era Giuseppe Zamberletti ci mise 12 anni per fare una norma sul servizio nazionale di protezione civile con dibattiti parlamentari durissimi quindi anche quello che noi diamo per acquisito fu uno scontro importante perché quella scelta di creare questa struttura in presidenza non era ovviamente da tutti come dire condivisa c'è chi la voleva dentro un ministero c'è chi voleva le strutture di un certo tipo eccetera quindi fu un dibattito parlamentare molto duro che poi portò nel 92 a questa legge insomma è stata la nostra legge mate in fin dei conti il decreto legislativo 1 del 2018 al quale ho avuto l'onore di partecipare perché all'epoca ero a Palazzo Chigi non fa altro che fare un po' un restyling di quella norma perché nel frattempo erano cambiate diverse cose tra cui ne cito una solamente è la modifica costituzionale che rende la materia di protezione civile materia concorrente quindi materia sostanzialmente regioni stato quindi non una materia centrale come era nel 1992 grazie ingegnere l'ultima domanda allora la teniamo per la fine per la parte finale Andrea Giuliacci aspettando il premio Atlante lo leggo perché in realtà è tra i candidati come saggio come libro di divulgazione scientifica nella rassegna organizzata anche dal circolo dei lettori questo libro ci parla della peggiore delle ipotesi negli scenari climatici dei cambiamenti climatici diciamo che la prospettiva iniziale non è proprio rassicurante quindi partiamo dalla peggiore delle ipotesi per arrivare a delle soluzioni probabili vi cito solo alcune affermazioni all'interno del libro Roma come ad Ali in Turchia Torino Milano come delle città del Texas gli inverni sempre più miti e l'estati sempre più bollenti per passare poi ad un clima tropicale specie aliene che popola animari e la terra ecco questo scenario un po' apocalittico ecco che all'inizio viene prospettato all'interno del libro come poi ci fa ben sperare ecco ci racconti un pochettino come ha pensato questo libro visto che tratti in alcuni capitoli gli scenari legati alle città al cambiamento impattante sulla società vera e propria ecco come l'ha pensato come arrivare dalla peggiore dell'ipotesi alla migliore soluzione possibile grazie innanzitutto grazie grazie per l'invito in questa location splendida io dicevo prima mentre facevamo il giro il tour esplorativo qui si respira la cultura ma nel senso che non solo si vedono libri antichi ma si respira proprio il profumo di questi libri si sente il rumore è un luogo particolare per cui è un vero piacere essere qua oggi ringrazio anche i relatori che sono intervenuti che intervengono oggi con me ringrazio voi per essere qui e per venire alla risposta voi non avete idea la lotta in fase di decisione del titolo con la casa editrice a me nella peggiore dell'ipotesi sembra un po' troppo no no non ti preoccupare che funziona è giusto così sì ma sembra che io sia per portare notizie catastrofiche è vero sono alcune catastrofiche però voglio dire il libro in realtà ha delle note di ottimismo soprattutto le conclusioni a cui giungo sono decisamente ottimiste un po' perché sono un fisico il fisico ottimista per definizione il fisico cosa fa risolve problemi quindi deve sempre cercare la soluzione per il fisico una soluzione c'è sempre o quasi sempre e quindi è ottimista per natura e detto questo perché nella peggiore dell'ipotesi perché allora il libro vuole essere una una fotografia una descrizione di come potrebbe cambiare tutta la nostra vita tutto il mondo che ci circonda se il clima dovesse cambiare nella peggiore delle ipotesi quindi se noi non faremo nulla per contrastare questo cambiamento cambierà veramente tutto non solo vedremo dei fenomeni atmosferici via via sempre più violenti non solo cambierà il paesaggio perché certo se vi dico guarda che se il clima continuerà a cambiare così sulle nostre montagne ci sarà sempre meno ghiaccio sempre meno neve e tutti beh certo lo sappiamo sono anni che ce lo dite se vi dico che a causa del cambiamento climatico potremmo avere delle stati ancora più torride e sempre più di frequente eccezionalmente calde e sempre più di frequente vedere dei temporali particolarmente violenti io penso che qui non si stupirebbe nessuno dice beh certo ce lo dite da anni ma se vi dovessi dire che a causa del cambiamento climatico aumenteranno i crimini violenti a questo ci avete mai pensato se vi dovessi dire che a causa del cambiamento climatico potrebbero aumentare i messaggi d'odio sui social network se vi dovessi dire che a causa del cambiamento climatico potrebbero esserci dei crack finanziari di miliardi e miliardi di dollari ebbene è la realtà è quello che potrebbe accadere ma noi spesso ci focalizziamo sulle cose più evidenti e quindi non pensiamo a come il clima veramente potrebbe cambiare tutto ciò che ci circonda ma allora hai visto che il dito non era giusto qui è una catastrofe no perché in realtà la scienza ce li dà gli strumenti per contrastare questo cambiamento per evitare il peggio la scienza ci dà gli strumenti per evitare che il clima cambi troppo e soprattutto per affrontare questo cambiamento climatico per adattarci si dice quindi sì le cose stanno cambiando ma noi possiamo cambiare con esse e cercare di adattarci e l'aspetto poi più interessante perché l'ha accennato anche l'ingegnere Curcio è bellissima questa definizione della protezione civile che è materia viva anche perché mi ci ritrovo in alcuni passaggi del libro perché alla fine nella protezione civile siamo tutti noi è vero che c'è chi organizza a livello nazionale gli strumenti le attività principali ma ognuno di noi fa parte della protezione civile e allora attenzione anche nella lotta al cambiamento climatico io vi ho detto che la scienza ci dà gli strumenti per contrastarlo quindi la scienza ci dice già oggi cosa dovremmo fare per evitare che il clima cambi troppo rapidamente che cambi troppo e cosa dovremmo fare per adattarci a questo cambiamento il problema qual è è che per riuscirci per ottenere dei risultati efficaci c'è bisogno di tutti c'è bisogno di ogni singolo cittadino ma i singoli cittadini devono essere convinti che questa sia la strada da percorrere devono sapere perché ad esempio devono abbandonare la macchina a diesel e prendere e rivolgersi alla macchina elettrica o quantomeno incominciare a pensare alla macchina ibrida devono capire perché è importante consumare meno energia e magari consumare soprattutto un certo tipo di energia prodotta in maniera si dice pulita perché altrimenti è chiaro che insomma se a me arrivano a casa due proposte per la la fornitura di energia elettrica una costa 40 euro di meno diceva se non so perché una è meglio dell'altra io scelgo in base al costo io penso non solo io immagino la maggior parte certo se poi però io sono conscio del fatto che quella che costa 40 euro di più però è una è prodotta in modo tale da non danneggiare l'ambiente da garantire anche alle future generazioni un mondo migliore e allora dici beh guarda quasi quasi 40 euro l'investo e scelgo la via migliore però attenzione ecco che allora viene fuori quel tassello fondamentale che spesso ci dimentichiamo è vero dobbiamo intraprendere la strada della transizione ecologica è vero dobbiamo consumare di meno e meglio è vero dobbiamo stare dobbiamo cercare di adattarci in maniera più efficace al cambiamento climatico ma tutto ciò è possibile solo se si parte dall'educazione dall'istruzione cioè dobbiamo far sì che tutti i cittadini sappiano perché è importante contrastare il cambiamento climatico innanzitutto cos'è il cambiamento climatico ma anche che tutti i cittadini sappiano perché è importante la protezione civile e come bisogna comportarsi in certe occasioni da questo punto di vista ho visto delle analogie con quello che sta facendo anche la protezione civile io ho partecipato più volte negli ultimi anni alla campagna io non rischio sono queste giornate in cui si cerca di spiegare ai cittadini cosa fare in occasione di eventi che possono essere catastrofici eventi importanti pericolosi dall'alluvione al terremoto perché è normale se nessuno me l'ha mai spiegato come posso io sapere cosa devo fare in certa occasione allora se nessuno mi ha mai spiegato cos'è il cambiamento climatico e perché è importante contrastarlo e soprattutto in che modo lo si contrasta non possiamo pretendere che i cittadini seguano delle politiche virtuose allora perché è importantissimo io spesso dico la lotta al cambiamento climatico si vincerà nelle scuole perché perché spiegare già ai più piccoli più piccoli intendo già alla primaria cos'è il cambiamento climatico come si combatte perché è importante seguire certi comportamenti significa costruire già oggi il cittadino di domani che è consapevole che c'è un problema sa qual è il problema sa come si affronta e che tra una bolletta che costa 40 euro in più ma perché è fornita con energia pulita una bolletta che costa 40 euro in meno ma continua ad inquinare l'atmosfera fa la scelta giusta sceglie la bolletta che costa di più ma che non fa male all'ambiente e qui allora arrivo ho fatto un giro lunghissimo l'ho presa larga perché sono però ottimista perché attenzione anche il libro al dispetto del titolo ha comunque note di ottimismo perché io vedo già i segni del cambiamento mi è capitato di recente di andare a fare delle lezioncine su questi temi nelle scuole primarie ebbene ho trovato dei bambini che di questi temi ne sapevano di più di quanto ne sapessero gli studenti delle superiori da cui andavo dieci anni fa si incomincia a spiegare a istruire i più giovani già adesso ed è importantissimo perché perché se vogliamo che diventino dei comportamenti nati naturali bisogna che questi comportamenti vengono acquisiti da piccoli e lì porto il mio grande cavallo di battaglia mi hanno già accusato di avere un agliason con le aziende che fabbricano cinture di sicurezza perché perché lo ripeto da anni oramai porto questo esempio sempre io sono cresciuto piccolino negli anni 70 salivi in macchina negli anni 70 non ti allacciavi la cintura di sicurezza per un semplice motivo non c'era ma non c'era neanche per quello che che portava la macchina poi è arrivata la cintura di sicurezza io ho preso la patente io mi allaccio sempre la cintura di sicurezza perché so bene che mi può salvare la vita però mi rendo conto che tutte le volte magari inconsciamente ma seguo un percorso logico un ragionamento metto in modo la cintura di sicurezza perché la cintura di sicurezza sì perché mi salva la vita se allora l'allaccia nel frattempo ho fatto 100 metri perché intanto mi sto autodenunciando negherò tutto quindi se anche state registrando dirò che è un montaggio che non è vero però intanto sono partito i miei bambini io li chiamo ancora bambini ma oramai incominciano ad essere cresciutelli fin da piccoli se io partivo che loro non avevano ancora allacciato la cintura era tutto uno strillare papà la cintura ma non sapevano neanche perché dovevano allacciarsi si lo sapevano vagamente ma per loro era un comportamento innato naturale loro sono cresciuti che si sale in macchina e ci si allaccia alla cintura di sicurezza e quindi lo fanno in automatico bene noi dobbiamo arrivare a creare un cittadino di domani che non si domanda perché è giusto utilizzare l'energia pulita perché è giusto sprecare evitare di sprecare l'energia perché è giusto pagare quei 40 euro in più in bolletta lo fa con naturalezza perché sa che è quella la strada giusta allora proprio perché vedo già i primi segnali di questo cambiamento io sono ottimista e quindi nella peggiore delle ipotesi sì è quello che potrebbe accadere ma io sono convinto che noi la peggiore delle ipotesi la eviteremo grazie Andrea Giuliaccia a proposito di seconda parte del libro professor Dancero come impatta il cambiamento climatico nella vita di tutti i giorni e come il climate change può cambiare anche i nostri usi e costumi quotidiani lei che è un po' il padre degli studi delle politiche anche ambientali su scala urbana grazie grazie dell'invito e complimenti per il libro che mi ha preceduto ha già elencato una serie di pregi comunque l'ho letto è un libro che consiglio perché riesce a trovare il giusto mix di comprensione accessibile credo tutti comunque molti in modo molto scorrevole e avvincente quindi si legge non dico come un romanzo ma quasi insomma e quindi è un'ottima lettura che appunto dà una serie di allarmi che per certi versi come diceva l'autore sono già stati dati ma a parte con un modo molto interessante e però appunto propone una serie di possibili soluzioni come impatta il cambiamento climatico basta che pensiamo alla vita che facciamo per esempio pensiamo alle ondate di calore in una città come Torino in altre città è diventata progressivamente una realtà non più un evento eccezionale ma quasi la costanza per cui addirittura ci stupiamo nell'estate in cui cominciamo a stupirci quando non fa troppo caldo ma quest'estate è stato impegnativo e ci rendiamo subito conto come il libro fa bene che cosa voglia dire lavorare muoversi quando le temperature arrivano a un certo livello e magari così insomma io nell'altro temi di specializzazione e interesse mi occupo di cooperazione internazionale ho avuto la possibilità di studiare anche lavorare nell'ambito della cooperazione soprattutto nel Sahel anche in paesi dove adesso non si può più andare per questioni di sicurezza e beh però già anni fa le persone amici che conoscevo che lavoravano come cooperanti in Mali insomma cercano di far presente cosa voleva dire lavorare con certe temperature se la situazione cambia ancora ecco che proprio non è possibile ma già per dire già soltanto il nostro paese non è una novità di adesso ma l'organizzazione concreta della vita tra nord e sud Italia gli orari erano già un po' diversi ecco ci dovremmo abituare per esempio a rari un po' magari i nostri computer bisognerà avere dei computer che resistano a temperature più alte perché ci vuole niente che il computer vada in tilt no cose cose molto 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 semplici che ci fanno vedere come oppure gli eventi estremi di cui si è parlato che comunque anche se lo sappiamo un conto è saperlo un conto è vedere che accadano ecco io mi vorrei anche soffermare molto sulle prospettive perché credo che questo sia l'elemento molto importante giustamente l'autore diceva la speranza nei giovani se dobbiamo vedere negli ultimi anni l'elemento di novità nella politica è stato il protagonismo dei giovani dei movimenti giovanili dei Friday for Future e altri che sono entrati come soggetti della politica cosa che non era che non c'era prima quindi quei giovani che sono già sensibilizzati e che crescendo pongono delle domande e hanno bisogno di avere delle risposte che la società sembra non riuscire a dare ecco quindi cioè dobbiamo tenere conto che poi questi giovani giustamente crescono e ci presentano il conto ci chiedono voi che avete un'età per occuparvi per prendere delle decisioni per orientare come vi prendete carico del nostro futuro questa è la domanda è la domanda cruciale e a questo punto di vista dei segnali cioè allora ci sono dei segnali positivi un mesetto fa forse anche meno in una conferenza alla Cavallerizza abbiamo ascoltato da un collega non mi ricordo più il nome comunque esperto in energie rinnovabili ci portava i dati sull'energia rinnovabile ora come già ora in Italia e nel mondo la produzione di energie rinnovabili sia notevolmente cresciuta e ci siano ancora degli enormi margini di miglioramento quindi quello per esempio è già solo un dato incoraggiante così come le prospettive di ricerca in altri ambiti quindi la questione è quanto rapidamente stiamo investendo nel futuro e qui ci sono dei dati meno incoraggianti cito uno su tutti nella città dell'auto che era la città dell'auto il fatto che non so la Magnetti Marelli chiudono la stabilimento pare perché la transizione ecologica mette in crisi delle produzioni che erano basate sulla città con motori combustibili tradizionali non motori elettrici questo è un dato che ci deve far riflettere quindi quanto velocemente ci spostiamo ma ancora prendo il bel esempio che ha dato l'autore sulle cinture di sicurezza cioè far entrare nel paesaggio naturale della nostra quotidianità delle micro azioni una serie di cose che qui appunto prima le cinture di sicurezza o anche il poggiatesta se pensiamo non avevano il poggiatesta le auto oggi un'auto senza poggiatesta non può uscire non è regolare però qui tra l'altro voglio sottolineare un aspetto un pregio del libro che riesce a tenere contemporaneamente assieme io lo dico da geografo quindi che è interessato ai ragionamenti su più scale a collegare la scala globale la scala locale e quelle che stanno in mezzo ecco tiene assieme i ragionamenti globali sulle prospettive ma anche con tanti esempi e anche con situazioni appunto viene anche nominata Torino nominate le altre città cioè per far vedere come le questioni sono connesse nei due sensi non è soltanto che il globale influenza il locale ma viceversa le buone pratiche che accadono a qualche parte influenzano e aiutano a trovare delle soluzioni ecco però a me fa sempre pensare come se dovessi dire uno dei problemi a Torino da un po' di tempo questa parte sono le biciclette che vanno sul marciapiede cioè nella città in cui ci sono auto ovunque dappertutto il problema sono le biciclette non voglio dire che non ci sia il problema delle biciclette che vanno sul marciapiede o altro è però che siamo così abituati abbiamo così introiettato un paesaggio naturale tra virgolette che è fatto di automobili città più automobili quello è il paesaggio naturale quindi le biciclette stonano in questo paesaggio naturale cioè i ciclisti dovrebbero lasciare far spazio alle automobili perché questo è il paesaggio naturale adesso sto esasperando ma mica tanto invece dobbiamo abituarci a altre modalità di muoversi e qui la ricerca deve aiutare a trovare altre modalità ma i cambiamenti richiedono più tempo anche se il covid ce l'ha insegnato laddove c'è un'emergenza e beh lì ho torto collo abbiamo dovuto cambiare radicalmente cioè prendiamo tra le tante disgrazie ci ha portato il covid prendiamo l'esempio c'è stato uno stress test per tutta l'umanità incredibile che ci ha dimostrato che di fronte a situazioni drammatiche si sono cambiati drammaticamente i comportamenti ecco bisogna pensare e ragionare in questo modo cioè nella peggiore dell'ipotesi secondo me è un fantastico titolio perché perché vale il principio di precauzione cioè vale il principio di precauzione noi dobbiamo agire come se la peggiore dell'ipotesi è verificata se chi progetta un'astronave per andare su Marte deve ragionare nella peggiore dell'ipotesi non la migliore se tutto va bene arriviamo no e quindi complimenti per il titolo grazie professor Danzero passerei prima di fare poi le domande finale ai miei due relatori a latere professor Cassardo lei insegna una materia complessa anche a studenti che di fatto non si occupano proprio di quello quindi insegna a studenti di corsi non strettamente di fisica il clima ecco in un momento in cui è facile parlare di fake news di informazioni falsate oggi leggevo che su Lecce c'è stato un particolare un particolare fenomeno chiamato adesso mi dirà il dottor Giuliaci Born Danbarst ecco sono andata a controllare cosa significasse ecco in un momento in cui è davvero facile imbattersi in informazioni falsate in informazioni non supportate da dati scientifici come si può insegnare il clima a studenti che di fatto magari studiano altre materie si grazie intanto grazie anche per l'invito in questa tavola mi fa molto piacere faccio una piccola premessa essere qui in questo momento con Andrea Giuliaci anche perché nella mia storia ho avuto occasione di frequentare per un anno il servizio meteorologico dell'aeronautica che era comandato da suo papà quindi sono stato per un anno ho fatto esperienza operativa a Milano quando c'era ancora il servizio di leva io ho scelto di fare l'ufficiale proprio per fare il meteorologo e acquisire esperienza operativa quindi quell'anno a Milano per me è stato utilissimo perché dalle carte e dai libri che avevo studiato in università ho imparato poi a gestire i numeri a fare i grafici a interpretarli per stimare appunto la meteorologia io sono nato meteorologo poi mi sono avvicinato al clima nel corso dei 30 anni che festeggio il mese prossimo di attività all'università e tre anni fa ho voluto fare una scommessa di aprire un corso universitario non per i fisici io sono fisico insegno normalmente i fisici insegno clima meteorologia ma aperto a tutti tutti gli studenti dell'università di Torino in realtà ha aperto anche al pubblico perché come tutti sanno i corsi li può seguire chiunque l'importante è che non crei problemi agli studenti regolarmente iscritti in aula ma se un'aula ha 100 posti e ci sono 50 studenti gli altri 50 posti sono fruibili anche da uno che passi per strada e voglia sentire la lezione poi ovviamente non può dare l'esame se non è regolarmente iscritto beh io ho voluto aprire questo corso tra l'altro il primo anno è stato in anno covid quindi un corso interamente fatto online a tutti gli studenti che fossero interessati al clima perché l'ho fatto proprio perché i movimenti studenteschi dei Fridays for Future che molto spesso erano composti da giovanissimi quindi da liceali se non addirittura da studenti delle scuole medie e questi sarebbero arrivati poi all'università ma non tutti avrebbero seguito fisica fisica contiene una percentuale molto minoritaria di studenti e quindi normalmente negli altri corsi di laurea questo tipo di materia non viene mai spiegato e se anche qualcuno magari studente di psicologia faccio un esempio a caso avesse voluto seguire il mio corso di clima per fisici alla seconda ora sarebbe uscito dall'aula non capendo più nulla e invece io ho voluto fare questa scommessa di provare a parlare di clima a tutti proprio per far capire le questioni principali cos'è il sistema climatico quali fenomeni ci sono com'è possibile fare delle proiezioni sul clima futuro com'è possibile evidenziare che il clima sta cambiando a ragazzi che non hanno basi scientifiche perché credevo di farcela e poi diciamo c'è stato un buon successo anche se i numeri sono ancora piccoli ma comunque un centinaio di studenti per un fisico è già un numero molto grosso perché è superiore al numero di studenti normali che ha in aula come studenti di fisica perché nella mia esperienza di comunicazione anche con il pubblico ho creduto di saper trovare il linguaggio giusto per comunicare anche a chi non è esperto di scienza un linguaggio che ho trovato perfettamente in questo libro che è proprio fatto per una persona che non conosce la scienza e a cui si vuole spiegare che cos'è il clima e quali sono i segnali che il clima sta cambiando il clima è una cosa complicata perché le variazioni climatiche che per noi sono enormi in realtà sono impercettibili perché quel grado è poco più di aumento della temperatura globale in un secolo vuol dire in un anno una variazione di un centesimo di grado che nessuno può sentire sul proprio corpo e chi vive magari tutta la propria vita in un quartiere di una città che magari non è mai stato in montagna e non ha mai visto i ghiacciai regredire si sente le ondate di caldo ma magari non percepisce la gravità di questo fenomeno se non viene messo davanti a delle evidenze sperimentali che lo dimostrano in questo libro vengono citate tutte con dovizia ma con un linguaggio che sì nel titolo è un linguaggio che mette di fronte a un problema molto grave e non deve essere nascosta la gravità del problema però il discorso è molto fluido è scritto molto bene come diceva Egidio Dancero è avvincente la lettura di questo libro per cui chi legge questo si rende conto del problema anche se magari alcuni tipi di effetti non li ha mai sperimentati perché nel corso della propria vita non è mai andato a vederli di persona e la peggiore delle ipotesi ma questo è normale se io voglio spaventare cioè se io voglio far sì che le persone prima si faceva l'esempio della macchina non guidino oltre i 130 km all'ora in autostrada non è che vado a fargli vedere il piccolo incidente che potrebbe succedere se uno guida i 131 all'ora vado a fargli vedere magari il risultato di un incidente grave in cui uno guidava i 200 all'ora cioè devo sempre far presente il caso peggiore possibile le conseguenze peggiori possibili per far capire la gravità del problema poi dopo è ovvio che tutti noi speriamo che non si arrivi mai a queste conseguenze però queste sono le conseguenze che possono succedere se non si fa niente e malgrado io sia io sono un po' meno ottimista di Andrea Giuliacci nonostante sia anch'io di matrice fisica perché è indubbio che per esempio quando io avevo l'età degli studenti io non avevo mai sentito parlare della parola cambiamento climatico e c'era già perché negli anni 80 quando io facevo il liceo il cambiamento climatico era già in atto da almeno una quindicina d'anni anche in Italia però nessuno ne parlava a scuola niente in università niente non ho mai sentito questa parola si parlava di buco dell'ozono si parlava di piogge acide ma non si parlava di cambiamento del clima e adesso se ne parla nelle elementari quindi un miglioramento c'è stato anche di consapevolezza da parte delle persone però bisogna andare avanti perché la consapevolezza c'è sì ma non è ancora sufficiente in numerosità da convincere i diciamo i decisori politici a occuparsi pienamente di queste problematiche perché non c'è sufficiente spinta dal basso perché il politico poi alla fine fa le cose in cui crede ma soprattutto che gli portano voti e se la maggioranza delle persone chiede di fare qualcosa per contrastare i cambiamenti climatici io vi dico che qualunque politico anche quelli della fazione più contraria più resistente a queste politiche alla fine devono farle perché nessuno vuole perdere voti quindi questo libro la mia fatica come divulgatore e come docente universitario e quella di tutti noi va in questa direzione certo è un lavoro molto difficile perché diciamo non si raggiunge un pubblico enorme Andrea Giuliacci forse molto più di me perché grazie alla televisione e grazie alla sua ovviamente fama acquisita duramente nel tempo riesce a raggiungere molto più pubblico ma comunque tutto fa tutto un lavoro insieme che deve far crescere la consapevolezza dell'opinione pubblica della gravità e del problema del cambiamento climatico grazie professor Cassardo questo ci porta alla fase finale della nostra discussione ma mi dà l'occasione per fare l'ultima domanda all'ingegner Curcio e al dottor Giuliacci la sfida per il futuro del sistema di protezione civile si parla di rischi interconnessi di rischi impattanti sulla società civile ecco qual è la sfida del 2030 diciamo citando un anno a caso della protezione civile no allora mentre ragionavamo appunto io penso che siamo d'accordo sul fatto che una sfida è una sfida come dire culturale no e la sfida culturale non solo deve basarsi sulle su considerazioni scientifiche solide dimostrabili si parte da concetti come dire i dati ne parlevamo prima ma noi viviamo una società che è complessa che fa fatica a vedere come dire un po' oltre le problematiche del quotidiano e allora quando si parlano del cosiddetto sviluppo sostenibile quindi quando si cioè quando si immagina un futuro non è che per forza un futuro di rinunce perché deve essere migliore sostenibile cioè non significa necessariamente che cambiare significa cambiare rinunciando a qualche cosa ma cambiare rispetto ad una mentalità questo è molto ben presente all'interno come dire del libro poi è chiaro che anche qui è ovvio che stiamo parlando di sfide non solo come dire territoriali locali nazionali si parla di sfide mondiali questa è una sfida che dobbiamo come dire lavorare tutti quanti insieme partendo da presupposti molto molto diversi e molto molto complicati allora io il 2030 è stato come dire citato perché è un anno un po' simbolo per tutta una serie di prodotti di progetti di ragionamenti che si fanno anche a livello mondiale l'agenda cosiddetto 2030 quindi tutto ciò che è collegato ai famosi 17 obiettivi di sviluppo i target di sviluppo sostenibili l'azione che sta facendo le Nazioni Unite con l'agenzia che si occupa della riduzione del rischio dei disastri cioè cercare anche di portare questi ragionamenti a paesi che hanno un punto di partenza molto molto più complesso rispetto al nostro perché poi la sostenibilità è anche relativa al punto di partenza dello sviluppo di una società cioè noi oggi facciamo questi ragionamenti poi ci confrontiamo con i paesi africani poi ci confrontiamo con l'India poi ci confrontiamo con la Cina e quindi diciamo facendo questi ragionamenti si potrebbe cadere nell'idea vabbè sì che c'entra noi possiamo pure abbassare il condizionatore dico una banalità però poi alla fine non siamo noi ecco questa sarebbe una mentalità perdente perché significherebbe non solo immaginare l'ipotesi peggiore ma andare dritti verso l'ipotesi peggiore e quindi il nostro sforzo è non solo culturale da un punto di vista di consapevolezza di ciò che noi possiamo fare quotidianamente ma convincerci convincerci ma non perché ci dobbiamo convincerci ma perché così è che questa trasformazione non significa necessariamente rinuncia non significa necessariamente perdere qualche cosa ma significa investire in qualche cosa di nuovo noi nel nostro sistema di protezione civile e mi ritrovo molto in quello che diceva Andrea Giuliacci facciamo come dire siamo un po' il momento di aggregazione nella disgrazia io lo dico sempre io riesco a parlare di prevenzione solo in emergenza cioè non se voi mi dite ma facciamo una riunione dove parliamo della prevenzione non mi chiama nessuno quando ci sta poi l'emergenza io ho la fila perché tutti vogliono come dire la disgrazia alle spalle e io sto diventando diciamo vagamente aggressivo molto vagamente non solo per l'aspetto climatico ma come dire perché a un certo punto dico scusate io inizio a parlare di emergenza se prima pagate un fio e ragioniamo anche nella costruzione di questo percorso perché se no come diceva prima Andrea Giuliacci parliamo di emergenza ma non e spesso parliamo sempre per che cosa potevamo fare per evitare cioè il reframe classico è è successa questa cosa di chi è la colpa punto primo e che cosa dovevamo fare per evitarlo e io inizio di chi è la colpa non spetta a me che cosa dobbiamo iniziare a fare per evitarlo iniziamo a pensare a oggi per evitarlo domani invece di pensare a quello che dovevamo fare l'altro ieri per la cosa che è iniziata oggi e si fa e si fa un po' un po' di fatica quindi non c'è dubbio che la sfida è culturale non c'è dubbio che la sfida è internazionale non c'è dubbio che però gli strumenti ci sono chiaro operando quel sistema di equilibrio per cui le società sono molto diverse e quindi non è che possiamo come dire fare tutti lo stesso sforzo perché partiamo da punti completamente diversi questo dobbiamo dirlo perché se no non riusciamo ma ci sono anche una serie di strumenti appunto dal punto di vista internazionale che stanno cercando con grande fatica a come dire equilibrare questi strumenti e questi meccanismi gli strumenti internazionali sono una delle delle possibili vie cioè il fatto che si parta dall'IPCC per esempio quindi non è che lo ha detto lo scienziato di turno dell'università di turno che va benissimo che sarebbe ma è un consenso mondiale in cui tutti i migliori scienziati mondiali del mondo si mettono d'accordo insieme e questo mi perdonerete è già una cosa importante perché insomma poi la scienza ha molte come dire articolazioni ma come buona parte del fare umano e insieme tutti insieme a livello mondiale stabiliscono che questo è un dato di fatto e quindi si parte da quello e poi come declinare quello nelle politiche nazionali è chiaro che c'è chi è più propenso chi pensa alla geopolitica chi pensa alla produzione ma chi pensa oggi a questo lo fa sapendo che sta comunque contravvenendo ad un percorso che sta lì quindi per questo la sfida è culturale noi come protezione civile che possiamo fare intanto ribadire che tutto ciò che noi facciamo lo facciamo perché ci basiamo su concetti scientifici attenzione anche andando a dire in maniera molto chiara quelle che sono le incertezze della scienza perché la scienza ha delle incertezze ma noi non dobbiamo ecco in questo senso e anche per questo mi piace perché le certezze qualunque chi si occupa un po' di materia scientifica sa che qualunque evento dato processo è affetto da un certo margine di incertezza adesso comunicarlo questo al cittadino io lo vedo quotidianamente non noi ci sforziamo sulle attività di previsione meteorologica che tra le altre cose consentitemi una parentesi per capire quanto sono interconnesse queste cose i nostri sistemi di previsione meteorologica che sono avanzati che sono soffrono di questi eventi estremi perché quell'incertezza io lo dico sempre dice ma io quando prendo i mezzi a Roma sostanzialmente mi siedo e ascolto perché tra le altre cose mi piace ci hanno preso o non ci hanno preso questo è quello che sostanzialmente quando tu vai e dici ci hanno preso ma hanno fatto portare l'ombrello e invece allora questo ci hanno preso o non ci hanno preso che è vero da un certo punto di vista ma bisognerebbe spiegargli che ci sono dei fenomeni per cui i modelli convergono e quindi l'incertezza è molto bassa e quindi ci prendi e ci sono dei fenomeni in alcuni casi che stanno aumentando in frequenza in cui i modelli fanno fatica perché noi viviamo di modelli non è che viviamo come dire di registrazione ex post dove sai come va a finire la questione che per una serie di questioni l'incertezza diventa maggiore e poi ci metti il microclima delle macchine nel raccordo anulare e la cosa della collina che sa è chiaro che poi quell'incertezza può avere a livello locale una manifestazione molto diversa e quindi ci prendi o non ci prendi nella vulgata però nella vulgata perché poi noi dobbiamo anche come dire intercettare un po' la pancia di noi perché poi siamo sempre noi non è che ci mettiamo da questa parte siamo noi cittadini e ma oramai si sa che da una parte a Roma piove intensamente dall'altra parte invece c'è il sole quindi questa roba che sta un po' destabilizzando quello che qualche anno diceva a Roma piove o non piove adesso ci si chiama e dice ma da te piove che stai a 10 km perché ci sono dei fenomeni molto localizzati molto intensi molto violenti che vengono registrati e che a 10 km di differenza hanno una manifestazione completamente diversa allora dobbiamo anche un po' cavalcarla questa cosa sempre sulla base scientifica e spingere sul fatto che tutta questa roba che magari avveniva pure 30 anni fa 40 anni fa ma avveniva una volta ogni 6 mesi oggi praticamente avviene con una frequenza maggiore e questo è quello che noi registriamo se vivi a Roma poi se alzi la testa e ti rendi conto che l'estate scorsa il 3 luglio sulla marmorata c'è stato un distacco di milioni di metri cubi di ghiaccio che tra le altre cose hanno portato strage dolore e morte ma su un ghiacciaio che si ritira ora poi di metri l'anno e quindi non è che vedi le foto di quelle che erano nel 1950 e vedi le foto di oggi c'hai poco da fare le valutazioni è vero non è vero ci sono le foto cioè quelle del ghiaccio non ci sta più dove c'era il ghiaccio adesso ci sta la roccia e sono passati 30 anni quindi noi dovremmo sempre di più spingere sulla comunicazione spingere sulla cultura ha ragionissimo Andrea Giuliaccio quando dice io lo vedo con i miei figli io ho esattamente la stessa sensazione qualche volta io mi costituisco ancora di più me la metto perché c'è rumore perché se no manco me la metterei perché dico devo arrivare lì e invece no te la devi mio figlio se la mette e se poco poco lascio il frigorifero aperto perché mi giro perché sto prendendo una cosa e apro l'acqua è finita a casa mia mi fa nero dice ma tu non hai capito che non devi sprecare energie a te senti niente dici ma cazzo tu non vieni a dire a me io te lo dovrei dire a te e invece giustamente bene che lui lo dica a me bene quindi credo che queste siano le sfide sulle quali noi dobbiamo come dire concentrarci sapendo che c'è una disinformazione comunque che esiste che è più organizzata alcune volte di quello che noi possiamo immaginare e che fa tanto danno perché quella unica disinformazione messa nel momento giusto messa nel posto giusto in quella chiave di lettura giusta un po' complottista che insomma nel nostro caso fa sempre bene perché un po' di complotto ci sta sempre noi lo vediamo con il sistema di IT alert su quale stiamo come dire spingendo molto il complotto un po' ci attira abbiamo questa ancestrale come dire visione insomma che è il grande vecchio che tira i fili eccetera quindi io credo che queste siano le sfide su quali ci dobbiamo concentrare Ingegner Curcio grazie quando lei parlava mi è venuto in mente osservando banalmente il tipico gesto l'osservazione si basa sull'osservazione anche questa scienza l'orso polare e il ragazzo con il telefonino la copertina dei libri di solito e simbolica ecco cosa c'è in mezzo tra l'orso polare e il ragazzo col telefonino proprio quello di cui stavamo parlando in mezzo c'è l'inquinamento atmosferico c'è la diffusione del virus banalmente il covid che abbiamo vissuto è stato anche un po' come dire causato c'è stato uno spillover si è parlato anche di cambiamento climatico salto di specie ecco in mezzo tra l'orso polare e il ragazzo col telefonino cosa ci sta questa non era preparata ho osservato io la copertina del libro ci stanno tante cose perché intanto direi che l'immagine è perché coglie subito il nostro immaginario da quando si parla di cambiamento climatico tutti noi abbiamo l'immagine dell'orso polare che non ha più dove stare perché se gli togli la terra letteralmente la terra sotto i piedi il ghiaccio della banchisa è l'orso polare dove va e il cellulare perché è l'emblema del progresso che spesso viene visto come il fatto negativo è chiaro abbiamo inquinato così tanto con il progresso il progresso in realtà è un fatto positivo l'ha ricordato anche l'ingegner Curcio adesso non significa poco fa non significa che dobbiamo per forza rinunciare a qualcosa dobbiamo semplicemente modificare il modo in cui utilizziamo tutto ciò che abbiamo a nostra disposizione tra l'altro mi è venuta in mente una cosa perché spesso l'obiezione principale che si fa quando si parla di cambiamento climatico dobbiamo consumare di meno dobbiamo avviarci sulla strada della transizione energetica e beh sì però scusa la Cina l'India loro sono metà della popolazione mondiale quasi e non fanno nulla tanto non è vero che non fanno nulla attenzione perché la Cina è il paese che inquina di più ma è uno di quelli che ha fatto il percorso più più virtuoso mettiamola così più veloce verso una transizione negli ultimi anni come dire certo se guardo i dati in maniera statica cosa sta succedendo adesso la Cina inquina più di tutti quanti però se guardo quanto inquinava 30 anni fa e quanto inquina adesso 20 anni fa neanche 30 anni fa c'è una bella differenza quindi già un percorso però comunque rimane l'obiezione quella di fondo dice vabbè ma noi europei tanto bravi stiamo facendo tante belle cose ma se gli altri continuano a inquinare comunque allora io lì in realtà la risposta sul perché comunque lo dobbiamo fare me la sono andata a pescare ancora una volta da quando ero piccolo non sulla cintura di sicurezza in macchina ma quello che mi dicevano a scuola anch'io ho fatto la scuola da piccolo io negli anni 70 facevo la primaria l'elementare i miei tempi si chiamavano non la chiamo più elementare perché un giorno a scuola la maestra di mio figlio mi ha sgridato non si chiamano elementare si chiama primaria ho capito io ho fatto l'elementare però quindi posso dire che all'elementare ai tempi non mi parlavano di cambiamento climatico ma io mi ricordo che già ai tempi comunque ed ero all'elementare e ci spiegavano chiaro e tondo che l'energia non andava sprecata andava consumata con parsimonia sarà un po' perché l'OPEC aveva appena chiuso i rubinetti un po' perché comunque costava tanto e poi l'argomento principe era perché bambini comunque il petrolio il carbone finiscono finiscono non ce n'è una quantità infinita eh prima o poi finiscono allora provate ad immaginare noi continuiamo a consumare petrolio e carbone a più non posso produrre energia solo con queste fonti a un certo punto a rione geologi ci dicono oh sai cosa ho scoperto no cosa è che fra tre anni finisce finisce tutto no veramente scusa è al ritmo no che sta finendo tutto è al ritmo a cui lo consumiamo fra quanto finisce eh fra tre anni ma ce l'abbiamo una soluzione alternativa e no perché abbiamo continuato a consumare questo e quindi è fra tre anni abbassi l'interruttore e spegni tutto invece incominci a cercarti delle fonti alternative ti avvii sul percorso di una transizione che ti porta a consumare sempre meno combustibili fossili e sempre più altre fonti di energia ecco che un giorno arrivano i geologi e ti dicono sai cosa abbiamo scoperto sta finendo ah veramente e al ritmo a cui lo stiamo consumando fra quanto finisce fra vent'anni ah non tre no no venti ah va bene ma ce l'abbiamo un'alternativa sì perché abbiamo incominciato a usare fonti rinnovabili abbiamo incominciato a consumare di meno efficientare la rete bene quindi tra vent'anni siamo a posto quando finisce abbiamo comunque l'alternativa andiamo avanti quindi il motivo principale lo so che è detto da chi è meteorologo e studia il clima che dovrebbe mettere sempre in cima il clima la meteorologia dovrebbe essere quello il motivo principale ma no signori il motivo principale è che sono risorse finite noi dobbiamo per forza che si voglia credere o meno nel cambiamento climatico avviarci a un percorso di cambiamento e allora dico perché comunque lo dobbiamo fare anche per primi perché provate a immaginare se tra vent'anni veramente dovessero trovarci una situazione di questo tipo chi è partito per primo e ha avviato un percorso di transizione per primo sarà colui che soffrirà di meno quindi egoisticamente dico anche ma sì facciamolo e facciamolo più rapidamente possibile perché è un'assicurazione sul futuro questo indipendentemente dal clima questo giusto per rispondere all'obiezione più ovvia che mi viene sempre fatta a parte quella poi sono due le obiezioni che vengono fatte maggiormente questa ma perché dobbiamo farlo noi se gli altri non lo fanno e poi torno al famoso grado di differenza quello me la fanno gli studenti di solito ma professore ci ha parlato di un grado ma se domani c'è un grado in più io vengo vestito come oggi e allora lì tutte le volte vado a spiegare no attenzione non è la temperatura differenza di temperatura tra un giorno e il giorno successivo perché a quel punto avrebbero ragione questi studenti li promuovo comunque anche se fanno questa domanda è la differenza di temperatura media annuale allora un grado in più o in meno come temperatura media annuale è tantissimo perché perché su un anno sono 365 gradi quei 365 gradi li potete distribuire un grado per ciascun giorno dell'anno e allora la differenza rispetto all'anno precedente ma è relativa oppure per sei mesi le stesse temperature dell'anno precedente e 365 gradi in più distribuiti negli altri sei mesi due gradi in più ogni giorno che rimane oppure pensate tutti concentrati in tre mesi in quei tre mesi avete quattro gradi in più tutti i giorni rispetto all'anno precedente tanto per essere chiari al posto di un agosto in cui tutti i giorni tutti i pomeriggi avete una temperatura di 30 gradi un agosto in cui tutti i pomeriggi avete invece temperature molto più alte un agosto torrido quindi un grado in più non lasciatevi ingannare perché ve lo dico perché soprattutto di recente spesso mi sono ritrovato in situazioni riunioni conferenze in cui dall'altra parte qualcuno dice ma non è vero che il clima sta cambiando così in maniera così drasca un grado in più in meno cosa volete che sia un grado in più in meno è tantissimo ed è il motivo per cui dobbiamo evitare che quelli grado in più diventino due gradi in più o peggio ancora tre o quattro gradi in più grazie a tutti Grazie a tutti